Va ora in onda, pianeta oggi e venti nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20 e 30 su Radio Piper. Grazie a tutti. Questi gravi avvenimenti che stanno accadendo nel mondo. È stata colpita anche l'Europa. Ricordiamo ad esempio l'attentato a Nizza dove si sono calpestate delle persone con un tir. Ecco, pensate a che punti si arriva. Qualcuno sta usando questi pazzi per destabilizzare. Questa è la nostra ipotesi che stiamo verificando, che stiamo facendo degli approfondimenti tra noi colleghi giornalisti freelance. Ma c'è stato anche un altro fatto veramente drammatico, il bombardamento dell'ospedale pediatrico Save the Children. Dunque, a questo punto non potevo che chiamare anche qui Luciano Debei, filosofo, esperto in spiritualità. Tante cose ricordo, ecco, Luciano tu sei anche architetto. Lo ero nel senso che ho già messo in archivio questa qualità professionale che ha svolto una parte della mia vita, adesso è chiusa per cui l'ho messa in soffitta. Ecco, so che ti sei approfondito poi nella filosofia, hai fatto diversi studi e quindi... E' stata, dai, una mia passione quella della ricerca, della conoscenza di cos'è l'uomo e perché siamo qui, in questa vita. Qual è l'esperienza che noi dobbiamo passare per poter capire cosa siamo. Ecco, allora, tu come spieghi, ammesso che ci sia una spiegazione, cioè che cosa possiamo dire di fronte a questi fatti drammatici che sono accaduti, colpiti anche l'Europa, ma in modo particolare, cioè andare a bombardare un ospedale Save the Children pediatrico, dove ci sono dei bambini, insomma. Dal mio piccolo osservatorio posso dire solo questo. Queste domande me le sono poste anche io, ovviamente. E la risposta che mi sono dato è... in pochi minuti posso esprimere in questo concetto. Facciamo una carrellata a volo di un modo uccello, come dire, uno sguardo rapido di 2.000-2.500 anni. E vediamo l'uomo come si è evoluto in un rapporto particolare, cioè con quale? Con il denaro. Una volta, sappiamo benissimo, c'era il baratto e le difficoltà del baratto hanno comportato l'invenzione di questa forma di moneta, di scambio, che è non altro che un frazionamento del prodotto che io andavo a realizzare e volevo vendere. Quindi all'inizio questa moneta poteva essere per molti parti del mondo un prodotto naturale, come sale o altre cose. Poi piano piano si è andati evolvendo, creando una moneta ben precisa, di natura aurea prevalentemente. Perché dico questo? Perché la moneta, l'origine, nel momento che ha cominciato a fluire, ad essere divulgata nella sua importanza nel commercio, noi eravamo all'inizio di un periodo cosiddetto mercantilista, in cui, per sintetizzare, c'era merce, denaro, merce. Cosa vuol dire? Io producevo un prodotto, a livello artigianale più o meno complesso, lo vendevo, quindi acquisivo del denaro, che mi permetteva in parte di vivere, in parte di ricreare, riprodurre il prodotto che avevo fatto. Quindi il denaro era un mezzo di scambio. In questa fase il denaro aveva una funzione ben precisa in cui valorizzava la qualità e l'opera dell'uomo. Con l'evento del capitalismo si è invertito questo rapporto. Non abbiamo più merce, denaro, merce, ma abbiamo denaro, merce, denaro. Cosa vuol dire? Che io, che muovo grandi capitali, va bene, ci sarà una produzione preferentemente assettica, nel senso che l'individuo non ci mette più come nel sistema mercantilista, artigianale, la propria anima, perché noi vediamo che a quel tempo un prodotto era anche individuato con nome ben preciso del produttore. Per esempio un violino Stradivarius sappiamo che era fatto da Stradivarius, e via dicendo. Con l'evento del capitalismo il prodotto non aveva più un riferimento alla produzione dell'individuo, ma la produzione nel suo complesso. Quindi la Fiat è Fiat, ma non sappiamo chi ha lavorato nella Fiat. Quindi abbiamo denaro che svolge un prodotto, crea un prodotto, va bene, per rimettere nel mercato, ma per guadagnare denaro. Quindi il fine non è più poter sopravvivere, ma poter accumulare maggiori capitali. Denaro chiama denaro. Perfetto. Ma qui siamo ancora in una fase, come dire, molto delicata per i colori, ma in cui li divido ancora a una sua valenza. Noi vediamo per esempio già nei primi novecento un film importante che hanno fatto storia e che rimarranno nel tempo, come Metropolis per esempio, o i tempi moderni di Charlie Cepri. Quello è l'emblema, un significato estremamente preciso e importante di qual è il rapporto tra la macchina che stava entrando e subentrando sempre con più prepotenza e l'uomo che stava regredendo in questo rapporto. Oggi però, e qui è il dramma, e qui è il dramma, oggi però anche questo rapporto denaro-merce-denaro, che aveva già stravolto, ripeto, la prima fase del mercantilismo, oggi nel sistema finanziario abbiamo denaro-denaro-denaro. Sì, e qui che lo ribadiamo anche nelle trasmissioni del dottor Giovanni Sinaulini che appunto andiamo a sottineare questo punto. Ecco, cosa porta a questo? Oh, perfetto, e qui stavo arrivando il dunque. Questo porta che l'individuo è talmente regredito che ha perduto e sta perdendo rapidissimamente l'anima, cioè la propria identità di essere come individuo che si realizza attraverso il fare. Io faccio qualcosa, ma nelle mie capacità sono in grado di fare qualcosa. Per esempio, adesso vediamo, viviamo l'esperienza molto bella delle Olimpiadi, ma anche quello è un fare. Mi distingo, c'è un nome e un cognome, sono arrivato primo, ho vinto questa medalla, eccetera. Nella produzione, nel sistema economico non è più così. Loro vogliono, i grandi poteri ormai finanziari, vogliono che l'uomo sia diventato, e diventi sembra più un numero, una macchina. Sì, lo vediamo infatti ormai sempre di più questa cosa. Stiamo perdendo l'anima. Ecco, ribadiamo, stiamo perdendo l'anima. Stiamo perdendo l'anima nella misura in cui perdiamo la coscienza. Perché dovremmo fare delle esposizioni ancora un po' più dettagliate sul piano della spiritualità, ma definiamo l'anima in termini molto generici, no? Non c'è anima se non c'è coscienza. E se c'è molta coscienza, l'anima matura, cresce. Le due cose sono in correlazione diretta. Ecco, quindi in tre minuti, Luciano, come possiamo rapportare oggi questa situazione? E cosa prevedi, se andiamo avanti in questo passo? Se non si valuta più l'uomo come essere umano, il pianeta, la natura? Io prevedo una situazione purtroppo drammatica. Non voglio essere Cassandra che fa delle previsioni pessimistiche, ma nel Shir Bhavatam, un grande testo storico, spirituale dell'India antica, si dice che l'era del Kali Yuga, che è l'era del ferro, della discordia, in dove si arriverà a perdere completamente la coscienza e il qualsiasi riferimento al divino, quindi perdere coscienza vuol dire perdere il divino. Il divino noi l'abbiamo anche creato nella misura in cui avevamo sviluppato una certa coscienza. Anche qui c'è una correlazione. Il Kali Yuga è iniziato 5.000 anni fa e prevedono, purtroppo, questo dicono i testi, lo dico io, di grandi maestri spirituali illuminati, che dovrebbe durare 400.000 anni. Lascio a voi le conclusioni. Allora, diciamo che però qualcuno della SU si stancherà di vedere questo scempio. Io spero proprio di sì, ma probabilmente lui aspetterà che siamo noi a fare il primo passo. Tutti i grandi insegnamenti dicono che perché il divino faccia un passo, noi dobbiamo farne un altro attettanto. Se non diamo questo segnale di risveglio, di voler riscattare la nostra anima, perché noi qui in gioco non è la carne, perché bene o male la carne prima o dopo comunque dovrà distruggersi, dovrà scomporsi negli vari elementi della natura, come siamo nati, polveri aerei e polveri diventerai. Non è questo il punto. Il punto è che in questo passaggio di vita noi dobbiamo creare e formare, come uno scultore, l'anima. Lo spirito è eterno, ci dovrebbe andare avanti. E certamente. Deve. Ma come andiamo avanti? Se regrediamo diventeremo degli esseri brutti nel prossimo futuro. Certo che l'anima rinascerà, ma in che forma, in che modo, in che vita? Allora i cattivi li mandiamo all'inferno dantesco. Dante Leghieri credo che sia stato anche un po' ispirato nel scrivere quella bella opera, La Divina Commedia. Ecco, i buoni probabilmente riceveranno qualche premio, qualche comunque, perché verrà chiesto a tutti alla fin fine, ma voi cosa avete fatto nel vostro arco di vita in quel pianeta? Lo avete assassinato? Lo avete bruciato? Lo avete inquinato? Avete ucciso i bambini? Avete buttato le bombe di uranio impoverito sopra ai bambini? Avete bombardato gli ospedali pediatrici? E potremmo andare avanti non so quanto? Il tempo è finito, comunque ecco, in breve, una tua conclusione. Posso fare una conclusione? Certo, certo, Luciano. C'è un altro grandissimo testo che non è conosciuto da noi, ma che è molto conosciuto in India, e che è la Bhagavad Gita. E c'è un insegnamento molto profondo del grande Dio Krishna ad Arjuna, che è un grande comandante dell'eserzo, che dà l'inizio all'inizio del Kali Yuga, nella guerra che c'è stata a quel tempo, 5 milioni fa. Bene, lui, e vi invito eventualmente a leggerlo, lui dà un invito molto preciso, perché Arjuna voleva ritirarsi e dire io non voglio combattere per uccidere tutta questa gente perché mi sono stati amici. A lui risponde, e qui è l'inizio della Bhagavad Gita, lui risponde, sembra che tu dica sagge parole, ma in realtà tu sei nato guerriero e il tuo compito è quello di combattere, non puoi sottrarti al tuo destino. Grazie Luciano Debei, anche per questa ennesima riflessione, e ti richiamerò altre volte perché i fatti non è che sono molto belli. Mi ha un piacere risponderti, se posso, quello che sono in grado di dirti. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 in onda tutti i giovedì dalle 20.30